Presentate a Palazzo Lascaris le procedure operative in caso di abuso sessuale online a danno di vittime minorenni, manuale pratico a disposizione degli operatori dei servizi sociali, sanitari, della scuola, del privato sociale, delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Obiettivi del progetto, coordinato da Save the Children Italia, facilitare l'identificazione delle vittime, assicurare un'efficace segnalazione e una immediata presa in carico nell'interesse del minore.